Certo, dipende pure dal fucile, ora la scopetta, come a voi vi pare, ma la mano, carissimo, mi compare, è tutto a un cacciatore di vero stile. La mano ferma quando sa sparare, e allora posso dare le cannili, giusto? Ma se no, manco sette pili, pigli una cappettina andò a covare. Cosa fare? Come a te lo manano, fermo, preciso, scaccia lo suo occhio, e con un corpo, la ucciaiere, no cattoccio, afferro, o cani, o culo avvenneranno, lo furetto, lo sida per i ciali, per pigliare, figlioni e cacapalle.